Nella puntata precedente Devo trovare la mamma Devo restituire alla mamma il suo viso Ho preso il viso della mamma Ok Pop Hey Wuders Siamo nuovamente qui Per un nuovo video Questa volta su Resident Evil 1 E abbiamo preso i due I due oggetti di pietra e metallo Che verranno utilizzati Per poter attivare la porticina Che sta nella hall E che serve per poter fare le robe Quella Però non mi ricordo Dove devo andare Per poter tornare da qui nella hall Quindi potrei fare quello Girare lì Fare tutto questo giretto Bello bello Già potrei fare tutti questi giretti strani Però meglio andare da sopra Passerò da sopra Dove è la zona della macchina da scrivere E non ho capito una cosa Continua a essere rossa Come se mi fossi scordato qualche oggetto lì Ma io in realtà lì non mi sono scordato Nessun oggetto Cosa dico io? Cosa? Ok Giove puluvio Cosa mi sono scordato da quella stanza E... 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 Ok Credo che siano persi un po' troppo scritte a questo giro Pagliette Di... Quane Sì ok Perfetto Adesso dobbiamo girare Dobbiamo fare tutto il giro Andare nella hall Scendere giù Insegnere i due oggetti E diventare Superman Brrrr Brrrr Sono Superman Più o meno Sono meglio io E mi sembra che siamo quasi arrivati verso la fine di Resident Evil Non dovrei Non dovrei sbagliarmi ma manca Poco Non dovrebbe mancare molto alla fine di Resident Evil 1 Lo scopriremo a breve Una volta inseriti questi piccoli oggetti Pucciuose Quindi Boom E... Boom Baby Aprirla Beh è ovvio Aprela C'è solo Quei... Che carino Dove sono? Alta... Uuu Altare Devo dirlo È un nome così interessante Io sono stupido Ok Sono Sono Molto Stupido Tocca dirlo Però Capisco quando Me la si mette Così vicino Uno Uno di questi cosi Ok È tipo È un action Posso in te Io prenderei un po' di roba Perché molto probabilmente Qui vicino Verrai violentato a sangue Prendi quella roba Chezzo Prendi quella roba Perché si chiama Si chiama altare Vi dando un baule Presumo boss La butto completamente a caso Ma Ehi Io sono stupido Ora probabilmente ho toppato tutto Non c'è un boss strano Qui adesso In realtà È tutto così Non è così carino Quando sei in una grotta In una villa piena di zombie E ci sono delle candele Preparati a essere fottuto con la sabbia Perché è questo Quello che accadrà in questo video Sarò fottuto pesantemente Con tanta sabbia e vetro Tipo il ventro con lo zio Su Vampire Se seguite le nostre avventure Su Dice Games Italia Sapete di che cosa sto parlando Altrimenti Pentitevi E andate a vederle Sul canale di Dice Games Italia E in azione ragazzi Non seguite Rex And quit Now Il master E Robin Che cazzo Ok Ok Ehi Gertrude Oh no 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 Oh ho capito Aspetta aspetta Una Devo fare Questo Forse No Vai Opa no Ma che c***o Bene Ok Direi che non è andata Come speravo No no Direi di no Ok Pensavo avrei dovuto abbattere quelli Ma No Sai che cazzo Stava Oh Wesker Probabilmente è stato fatto cadere Che bello Dannazione Allora Se ho ben capito Questa dovrebbe essere La La Carissima Lais Giusto Ho ragione E sta indietro No 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 Carissimo E culo Spara le Vai Wesker Dai cazzo Ok Proviamo un po' eh Amma mia Destro Si Ok Ok Vai Perché non ho preso le ricariche per questa Oh merda Oh merda Boom No Chris Non so se serva a qualcosa Cos'è? Cos'è? Oh ha aperto un calcello E Oh Oh Ok Che cazzo è successo? Ah A me Fantastico Grazie Wesky All'interno Abbiamo un scheletro Ma c'è anche qualcos'altro Una foto di famiglia E una lettera Cara Leisa Col passare dei giorni sento che la lucidità mi sta abbandonando sempre di più Gli uomini vestiti di bianco mi fanno delle iniezioni che hanno alleviato il prurito Oggi mi hanno fatto un'anta dicendo che era per nutrirmi Dopo le iniezioni la mamma non riesce più a connettere ed è triste e scioccata perché non può pensare a te per tutto il tempo La mamma ha paura Paura di dimenticare tutto specialmente i ricordi di te e papà I vostri visi come eravamo felici insieme Tutti questi ricordi hanno iniziato a scomparire in un lato oscuro della mia mente Oh Lisa in questo momento vorrei toccare il tuo viso e abbracciarti per conservare i meravigliosi ricordi di te e papà Lisa non possiamo più rimanere qui Dobbiamo fuggire Ascoltami Lisa la nostra migliore opportunità di fuga sarà quando andremo di nuovo insieme al laboratorio Dovremmo far finta di essere svenuti e aspettare che l'uomo vestito di bianco si distragga Una volta fuori di qui cercheremo papà insieme Ok tesoro? Tieni duro Lisa 13 novembre del 67 Jessica Trevor Quindi quella era Lisa Oh beh Che dire Una figliola così adorabile E quando te ricapita? Bene stiamo salendo verso dove? Verso che luogo strano Ok è un luogo molto strano Non ci sono venuto qui Oh il giardino Oh ho capito dove sono Ma qua Matto Da qui c'è una grande porta di ferro che non si esce a spostare Bene Quine? Devo tornare indietro Ok Devo tornare indietro Prendere gli emblemi e metterli qui Immagino che è così Quindi Dobbiamo tornare indietro Pulsare la roba Rifocillarci con altre robe E poi saremo belli e contenti e transogli Quindi Fermo che questo video Spero che il combattimento con Lisa La Bella Vi sia piaciuto Credo che lo chiamerò anche così il gameplay Vedremo Comunque Spero che questo video vi sia piaciuto Ci vediamo al prossimo video Non play Siamo per chi lo va su Rax91 Nel frattempo che torniamo indietro All'altare sacrificale Della patria Branzulli Quello Quindi Ci vediamo al prossimo video Non play Ci vediamo al prossimo video Robo su Rax91 Oh yeah Grazie a tutti Bop